Once you get the feeling, once you got the wrong, now it gets the feeling, we ain't on the floor, once that's like you need us, jumping out the walls, why won't you believe us, till it's gone. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Figline Informa, trasmissione che nasce dalla collaborazione fra il comune di Figline e la nostra emittente Valdarno Channel. Questa settimana ci occuperemo di una manifestazione particolare, l'evento clou per il territorio di Figline, stiamo parlando di Autumnia, in programma proprio nel centro del Valdarno Fiorentino dal 9 all'11 novembre. Perché Autumnia è diventata la vera festa per Figline, non solo per Figline, ma per l'intero territorio valdarnese, quindi richiede uno sforzo particolare da parte sia dell'amministrazione che degli addetti del comune, le associazioni, insomma tutto quanto ruota all'organizzazione di Autumnia, però c'è sicuramente una grossa soddisfazione. Autumnia non ha più bisogno di essere descritta perché si racconta da sé e tutti nel Valdarno, ma non solo oramai la conoscono. È la festa nella quale la comunità figlinese si apre all'esterno e tutti insieme, istituzioni, scuole, imprese, volontariato, raccontano quello che è il nostro ambiente. Perché Autumnia è agricoltura, è alimentazione, è ambiente, ma in un senso più generale, ambiente inteso come qualità sociale della vita e bellezza dello stare insieme. Questo è il senso più profondo di Autumnia, il coinvolgimento di tutta la cittadinanza attiva. Per dire a chi è fuori dal Valdarno, in Toscana, venite a vedere come si sta a Figline Valdarno, vi raccontiamo quello che è il nostro territorio. Autumnia è nata sicuramente con le amministrazioni precedenti, ho avuto l'onore di poterla accompagnare in questi anni. È una manifestazione che dà grande orgoglio, grande lavoro, soprattutto agli uffici che ringrazio, ma grande orgoglio per noi perché è sinonimo di promozione del territorio, promuovendo le eccellenze di Figline e di tutto il Valdarno. Per citare soltanto alcuni numeri della manifestazione, avremo su un'area espositiva di 5.000 metri quadri, che è poi quella di tutto il nostro centro storico, 8 aree espositive, oltre 200 stand, 200 espositori, 40 sponsor, 31 partner istituzionali e circa una ventina di eventi collaterali. Questo veramente per far capire le dimensioni ormai di questa festa, che proprio grazie, ormai da qualche anno, grazie al contributo di tante aziende del nostro territorio, riusciamo a fare praticamente a costo zero. In un periodo di così grande sofferenza per le imprese, ci tengo a sottolinearlo perché significa avere sul nostro territorio imprese attaccate allo sviluppo del territorio, che hanno a cuore appunto la crescita e la qualità di Figline. Quindi davvero li ringrazio. Abbiamo cercato di mettere insieme un paio di grosse organizzazioni. Una è un evento si distrattivo, quello di Marasco. Domani sera alle ore 21 un ingresso gratuito al Teatro Garivaldi, che canterà le canzoni toscane, folklore toscano, chi è meglio interprete di Riccardo Marasco. L'altro è sabato mattina alle 10, una dimostrazione di protezione civile ai ragazzi delle scuole. Ci saranno oltre 200 ragazzi delle scuole. Con i vigili del fuoco, il GAEB e il centro intercomunale, verrà data una simulazione su un incendio in cui i ragazzi apprenderanno come si muove la macchina organizzativa della protezione civile. Questo è importante. Quest'anno abbiamo logicamente spostato quella che è la grande attrazione di Autunnia, la stalla, in un'area molto più vasta, in mezzo proprio a un giardino, un grande parco e quindi una fluibilità maggiore. Per quanto riguarda logicamente gli incentivi per l'ambiente, sabato pomeriggio tutti i bambini della scuola elementare potranno partecipare a dei laboratori organizzati tra l'amministrazione e l'AER che si chiama Piccoli Ispettori Ambientali Crescono. Insomma, anche la raccolta differenziata ad Autunnia. Sicuramente Autunnia è l'evento più importante che caratterizza il nostro paese. Per noi, come multinazionale, la parte di sociale è la parte fondamentale. Anche l'anno scorso il Comune ha organizzato questa scena all'interno dell'Istituto Vasari di Figline Valdarno e pertanto abbiamo deciso per quest'anno di supportare il progetto di Autunnia contribuendo in maniera importante alla realizzazione di questa scena. Siamo con il signor Camillo Saracinelli per parlare di una novità che è di quest'anno ad Autunnia, la possibilità di vedere il nostro paese Figline dall'alto grazie ai voli in elicottero. Sì, infatti è la prima volta che veniamo in questo Comune. Abbiamo già fatto esperienze di questo genere in altre località limitrofe qui nel torno di Firenze e ci sembrava opportuno partecipare anche ad Autunnia perché è una delle principali feste che riunisce molti visitatori e quindi daremo la possibilità, come abbiamo già fatto in altre località, di vedere il paesaggio da un punto di vista che io dico dalla terza dimensione, cioè dal cielo. Siamo con Marina Tagle che è moglie di un artista, Volturno Morani, che proprio in occasione di Autunnia verranno esposte i suoi quadri, le sue opere perché tra l'altro c'è una doppia finalità, diciamo, perché Morani era figlinese, però in questa personale vengono ripercorsi altre cose, o sbaglio? Sì, è una sorta di retrospettiva. Infatti esporrò anche un quadretto che lui ha dipinto all'età di nove anni, quando era figline, ma è proprio un ricordo storico. Questa iniziativa nasce proprio per consentire di conoscere ai filinesi l'oro concittadino, il quale ormai è morto da un po' di tempo, però il suo sogno era quello di ritornare a figline e creare una grande iniziativa, una bottega d'arte per i giovani, per avvicinare i giovani alla pittura e alla cultura, alla filosofia e a tutto quanto. Grazie a tutti!